PORTO GAAA Ebbene si è tutto vero Ragazzi ciao io sono Esector oggi siamo tornati Eh solitamente dico finalmente Oggi però non lo dico perchè come avrete sicuramente Anche già capito e letto dal titolo Mannaggia di quella Purtroppo ragazzi Questa sera non posso fare la live Che avevo pianificato il tutto perchè Questa mattina La Sony ha deciso incredibilmente Di farmi un regalo stupendo Ossia mi ha bannato la console Neanche l'account la console A dirla tutta raga mi erano già sorti un po' di dubbi Perchè mi sono trovato così Di punto in bianco tre rimborsi Mai chiesti il dietro sul mio conto Sul mio saldo paypal da parte appunto Della Sony e io da super genio Ero già lì con detto boh stasera raga Si sboccia no ma neanche morto Ragazzi ho acceso la play E ho iniziato a riscontrare i primi problemi Ci ho voluto poco per farmi fare uno più uno Quando mi sono accorto che non riuscivo più Ad entrare all'interno del mio account Dovete sapere che io solitamente accedo con l'accesso Automatico quindi la password non la vado mai a inserire Mai Caso strano questa mattina mi è stata richiesta Di inserire la password Password che io da un anno a questa parte Non inserisco proprio perchè entra da solo Quindi ho dovuto fare tutti i vari procedimenti Per fare il recupero password Bene Procedimenti che non andavano Voi vi direte come è possibile Regà mi dava sempre errore Qualsiasi cosa facevo errore Al che sai comunque io i video sul canale vorrei anche portarli E soprattutto mi sarebbe anche piaciuto riuscire a capire cosa cazzo fosse successo Quindi niente ho dovuto prendere il telefono Ho dovuto contattare direttamente la Sony Fino a quando mi hanno dato la bellissima notizia Gentile cliente la sua console è stata bannata Ma va Grazie a cazzo me la sbrocchio o no? Ragazzi sono sbroccato Io non so cosa sia successo Ma dal momento in cui mi sono arrivati questi rimborsi Che ripeto Non li ho mai chiesti indietro raga mai Semplicemente ho fatto una disdetta Che era quella di non rinnovare automaticamente L'abbonamento online del mio Playstation Network Punto Giusto per farvi vedere Per farvi capire anche che non vi sto prendendo in giro Vi mostro i tre rimborsi che ho ricevuto Uno di 100 euro Uno di 20 euro E l'altro di 25 euro Ma se anche volessi provare a giocare in questo momento Vi faccio vedere raga Non va Non mi fa entrare Inizialmente io pensavo fosse non so Un problema di aggiornamento Di software Di download andati a male Che cazzo ne so Cosa devo pensare io Loro l'hanno fatta enorme Perché io ho detto Poi vabbè raga Faccio un altro account Me ne creo uno nuovo Lo cambio il nome Mi rogava perché poi dovevo riaggiungere tutte le persone Su rainbow non avevo più tutte le mie classi Però ci stava Avendomi bannato anche la console Io potevo crearmi 67 account diversi Che non riuscivo a giocare lo stesso Signori morale della favola Siamo riusciti comunque tuttavia a risolvere Questo inconveniente che c'è stato Non so dettato da chi o da che cosa Però purtroppo per forza di cose La live questa sera non ve la posso portare Non lo stanno già lavorando Io ho già dato tutti i miei dati Stanno ripristinando questo problema E spero che nel giro di 24 ore ragazzi Io possa tornare ad essere come tutti i comuni mortali Un normalissimo giocatore Sulla playstation 4 Mi sembrava giusto informarvi Anche perché raga rischiavate di non vedere nulla stasera E soprattutto anche domani In questo modo invece vi ho tenuto aggiornati Vi ho fatto sapere Quello che è successo in queste poche ore Fa cassa boia Sto anche sudando Vecchè roba Però però Tranquilli sono fiducioso Io spero raga che domani Possa essere tornato a tutta la normalità E che vi possa portare dei video Normalissimi come ho sempre fatto Detto questo Fatemi sapere se è successo anche voi questa cosa O se invece sono io l'eccezione del caso Che mi becco tutte queste inculate E poi è proprio pazzesco Non l'avevo mai sentito Questa guarda Questa mi mancava davvero L'abbiamo aggiunta al nostro bel curriculum E che di sfiga Qua c'è in abbondanza Signori mi raccomando Rimanete sintonizzati Io domani spero di portarvi qualcosa Comunque sia Controllate il canale E fatemi vedere che ci siete Raga combattiamo tutti quanti insieme Perché con questo Ci butteranno fuori dalla play Mi hanno bannato Ma stiamo già tornando Neanche fosse un terrorista ragazzi Bannato Ma stai scherzando Ho fatto niente O avessi fatto qualcosa Niente Ma Dal vostro esector a tutti Vi mando un salutone Un abbraccione Ciao campioni Bannato Ragazzi Manca mi sono rubato chissà che cosa Iniziamo